Sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli, la Guardia di Finanza Partenopea ha eseguito perquisizione e sequestri nei confronti di 25 nuclei familiari riconducibili a clan Contini. Nelle procedure di richiesta del reddito di cittadinanza si sono esposti soggetti incensurati apparentemente in regola riguardo ai requisiti per ottenere il beneficio statale, i quali però hanno omesso di dichiarare all'Inps la presenza di familiari condannati o sottoposti a misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso. La consorteria criminale denominata clan Contini è egemone a Napoli, nei quartieri Vasto, Arenaccia e San Carlo all'Arena, e sarebbe notoriamente in grado di infiltrarsi efficacemente nel tessuto sociale ed economico anche legale partenopeo. L'attività investigativa è stata condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Napoli, gruppo specializzato nell'operazione Anticamorra e negli accertamenti economico-finanziali più complessi. I controlli delle fiamme gialle a nuclei familiari di quel tipo sono stati eseguiti anche in virtù di una normativa, quella sul reddito di cittadinanza, molto rigorosa sull'obbligo di indicare nella domanda l'inesistenza nel proprio nucleo familiare dei soggetti con trascorsi per reati associativi di tipo mafioso. Sono state sequestrate somme per circa 270.000 euro indebitamente percepite dagli indagati nel periodo aprile 2019-novembre 2020, oltre che le carte prepagate utilizzate per l'allocazione del beneficio. Gli accertamenti economico-patrimoniali condotti dalle fiamme gialle hanno messo inoltre in luce un tenore di vita per alcuni soggetti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, come dimostrato dall'acquisto di beni di lusso e dalla frequentazione di rinomate località vacanzieri in Italia e all'estero. Le perquisizioni e sequesti sono state eseguite in diverse zone della città di Napoli, Avvocata, Borgo Sant'Antonio Abbate, Poggio Reale, San Carlo all'Arena, San Lorenzo, Scampia, Stella e Vicaria, e nei comuni di Quarto, Sant'Antonio Abbate, Cicerale, oltre che a Reggio Emilia. Sottoposte a perquisizione anche le sedi di quattro centri di assistenza fiscale operanti a Napoli e provincia, utilizzati dai percettori del sussidio per la presentazione delle domande.